Praticamente su Superhostel UAC Grazie a tutti E io sono un pilla Regan perché stavo per E io inizio la intro adesso invece Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Della Super Hostel UHC Mi sono mescolato alla intro di Di Matt per fargli il dispetto apposta Ti vedo là in fondo Raga metti pure la carne può cuocere Attenzione è incredibile Signori Buon salve ragazzi e bentornati All'interno del secondo episodio della UHC Super Hostel UHC esatto Super Hostile Bazar che ci ricorda gentilmente Da adesso possiamo morire Grazie Adesso non si può respawnare E io ho una paura fottuta di morire E io ti giuro vorrei stare qua tutta la UHC Vorrei stare Raga voi non avete idea di quanto diamine è ostile questa mappa Ah benissimo direi Fantastico Guarda se ci sono i diamanti guarda Io ce l'ho Raga io ce li ho i secchi cazzo Dove siete? Ok allora Accanto Ma ce ne hai le coordinate della base? Sì 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 ce li ho Ma cioè vi vedo Però ho un problema a raggiungervi Aspetta che ci sto provando Aspetta attento sopra Aspetta aspetta che vi sto raggiungendo Da sotto terra In teoria dovreste già vedere il mio nick Ok ci siamo quasi Ok qua c'è Uh uh Raga redstone Esperienza No perfetto Perfetto Redstone buono Ok siamo arrivati alla terraferma Ah no 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 meglio di no Cazzo Dove siete raga vi ho perso Non shiftate un attimo Alexis a mezzo cuore Oh madonna Oh madonna Raga già la prima morte All'inizio del secondo episodio È una strega È una strega Sì è una strega Possibilmente vince lui Eh vabbè Raga io non sto trovando nulla Cioè non sto trovando minari Matt guarda dove sei Eh se vuoi venire in miniera Tanto adesso ragazzi bisogna minare Perché sennò qua non abbiamo niente Non abbiamo Non abbiamo neanche le mele Cazzo Oro 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 Sì Ok ragazzi Oddio che paura rega Non levati quella faccia Per favore D'accordo No però Che paura Se venite di qua Ho già piantato una base Eh perché io sono a 47 Io sono a 89 Scialla A parte tesla vieni qua Tieni Tieni Dammi la bottiglietta Se no è un bordello qua Allora io faccio così Provo ad andare verso l'acqua Provo a scavare verso l'acqua Ok c'è del ferro Possiamo prendere l'oro Se continuate nel tunnel Che ho fatto io C'è già una fornace Che sta smeltando Un botto di ferro Ok ok Io sto facendo Perché dimmi che qua c'è Trovato dell'acqua Ok tesla dove Ah ok perfetto Però devo riuscire È nella base che ho costruito Dov'è la base? Devi continuare il tunnel L'ho finito Ah ancora qua ho caduto l'acqua No non è vero Adesso ti porto Ti porto Aspetta Raga ho due secchi d'acqua Quindi possiamo fare Cos'è successo? Nulla È morto? Uh raga raga Qui muoiono tutti Qua muoiono tutti Raga potrebbe essere la prima Hc Che del vincitore Perché muoiono tutti Cioè Terzo episodio Ok Matt ci sei? Dove sei più? Ok Sto andando avanti Il bianco ha trovato i diamanti Di già Eh vabbè Giustamente esulta Giustamente Ho cattolato il ferro Tesla Tesla c'era un ferro C'era uno Eh vabbè Ragazzi il team blu Quello lì È un mostro Cioè Full vita ha trovato i diamanti Adonna guardate come sono messi male Gli altri team Uh Addio Gabbro Attenzione Ragazzi siamo rimasti io e Vischio Iron Man No anzi no Non morire Non morire Il cazzo muori Tesla guarda dietro di te Tesla Tesla Minchia che spav Come hai fatto? Dove l'hai trovata? Vedi? L'ho trovata nella cesta con l'antenna Cazzo Interessante Nel primo episodio Non c'era altro? Non c'era Acqua Raga acqua sotterranea Vai Vai Perfetto Ragazzi ho il piccone in ferro Vado a prendere l'oro Con l'asciutto dietro Anch'io ho il piccone in ferro Vai 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 Ora lo faccio Dove l'avevamo lasciato? Io ho già sette di ferro Qualcuno ha una mela? Raga io sono troppo tentato di Cioè continuare a premere tab Per vedere come sono messi gli altri Purtroppo raga qui In caverna Non c'è modo di Di sapere Esattamente dove stiamo andando Quindi Dobbiamo fare anche branch mining Così Che non è molto Cioè meglio no Però O magari lo superferro Cazzo Che è il piano lì Ma questa volta ci sono In giro della mappa Delle trappole Che sono delle robe Diamanti Diamanti Cazzo sì Eccoli qua Dove sono? Dammi i diamanti Qua ci sono raga Sono un bobbio Allora ragazzi Attenzione Perché in superficie Ci sono i mob Esatto I mob ci sono comunque raga In superficie Quindi cazzo Sono proprio sotto un albero Dovevo spawnare Eh bello C'è uno scheletro di merda No 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 Ok Sono in superficie Ok parato il colpo Vai brucia bastardo Brucia brucia Mi devo mettere lo scudo raga Mi paro È morto È morto È morto Sì cazzo Sì Nessun cuore Dire Ok Tella ci sono Me ne vado Me ne vado Me ne vado Me ne vado Raga diamanti Diamanti Via 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 la polizia Raga mi ha tratto diamanti God un botto Sì Si raga Sei Sei il diamante Raga io ne ho nove C'è un creeper alla base Fermi c'è un creeper alla base Dove dove Lì dietro Lì dietro al teschio Dentro al teschio Probabilmente Zio zombie dietro Zombie dietro zombie dietro Creeper dentro alla base Creeper dentro alla fottuta base No raga c'è un'ansia Vi giuro Alexi si è morto Alexi si è morto Signori basta Non può essere più respawnato GG Alexi si è morto Abbiamo già un nemico in meno Raga dobbiamo tempestare la mappa di torce Almeno la base Raga Zio ti stanno sparando Ti sparano Ti sparano Aspetta Io provo a spostarmi un attimino Provo ad andare in un punto in cui C'è uno spazio un attimino più ampio Madonna raga è pieno di mob No no zio Se poi ti buttano giù Se ti butta giù uno scheletro Zio è la fine Era dietro La sta prendendo fuoco Perfetto Raga sto per Mi spara lo scheletro Aspetta raga Occhio Vai vai Allora avete preso tutto quello che c'era sotto Tutto il ferro La fornace l'avete svuotata No No il ferro non l'ho preso raga Io non c'è Non potevo Era tanto raga quel ferro Porca troia Lo so Raga io faccio un ponte Che porta sopra gli alberi No 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 Se poi ti sparano gli scheletri Cadi giù Prendi sia il danno della freccia Che il danno del No no Lascialla Tesla lo puoi dire Dove sono le connessi Sì sì Video setting Via raga Ok provate Riuscite a seguirmi Perché ho trovato un punto In cui c'è il terreno Ma senza alberi E con delle foglie Il problema è che Dovevo andare Alla giù Dove ci sono queste isolette Sì arrivo Ottimo E poi lì Qua c'è la montagna Qua c'è una montagna Senza alberi Quindi possiamo Andare un attimino più tranquilli Occhio a mai tacce lo scheletro Occhio a mai tacce lo scheletro Occhio A sinistra Zombie dietro No no Ma mi è spuntato lo scheletro dal nulla Allontanati 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 Raga il distretto Buonanotte Zio hai due cuori e mezzo Hai due cuori e mezzo Già Quanto oro avete Quanto oro avete Ok io ne ho sette Quindi possiamo farci una mela d'oro Dobbiamo droppare una mela raga No dove c'è Sì Polli polli Frecce Siamo in una prateria Stiamo salendo su per il vulcano Non puoi più nuotare E comincia ad affogare È la fine Fermo un attimo Devi metterti dei blocchi sotto Raga ci serve una mela Mette dammi la mano a droppare mele Eh zio sei forte nelle UHC Quindi E poi non possiamo permetterci di essere Con una persona meno nel team Cioè già il team giallo È messo male Eh questo è vero Ok Tanto l'ho più raggiunto Però dai non venire colpito da Qualcosa Allora io direi di fare così E non l'abbiamo mai fatto in questo modo Però direi di giorno di stare fuori E di notte di andare in miniera Sì Secondo me è meglio Fine secondo episodio Sì Ok raga Raga Non siamo messi benissimo Le morti ce n'è soltanto una Adesso di Alexis E niente Ci vediamo nel terzo Sperando di fare qualcosa Perché siamo messi male Faremo Bella raga Bella Bella Ciao c'è 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 Ciao c'è